Amiche ed amici di Volonwreit, siamo a Palazzo Barolo per il laboratorio Colfischio, in occasione della mostra Impermeabili, che ricordiamo sarà visitabile fino al 28 novembre, quindi vi invitiamo a venire qui. Alla mia sinistra c'è Monica Zullian, della bottega Ingegno, e alla mia destra Chiara Baldi, di forma in bilico. Inizierei con Monica, che è la Mastra Fischietta, così come l'ho soprannominata prima, la maestra del fischietto. Perché proprio il fischietto per un laboratorio con i bambini? Allora, innanzitutto perché con TEA siamo andati a Chivasso, al Museo Clizia, che è stato un famoso ceramista e soprattutto maestro di fischietto. Quindi da qui l'idea di non solo fare della manipolazione ai bambini, ma di fargli avere un fischietto. Ha radici antichissime proprio, risale già agli antichi romani. Veniva cementato nei camini, a seconda di come tirava l'aria, per portare via gli spiriti cattivi. Quindi è una tradizione popolare e giocosa anche molto importante. Grazie Monica. Chiara, invece, ti chiederei, hai condotto il laboratorio insieme a TEA Taramino, una valutazione come è andata se i bambini sono stati ricettivi e hanno messo le mani in pasta, come si deve fare in questi casi? Allora, i laboratori sono andati molto bene. Abbiamo avuto un'utenza molto piccola, devo dire, per questa mostra. Quindi, ad esempio, per il laboratorio col fischio, solo materne. bene, il che è stato interessante perché comunque ci va una conduzione super specifica. La cosa molto bella è all'inizio quando gli si mette in mano la creta ed è un materiale freddo, umido, morbido. E poi da lì, a seconda del laboratorio, si fanno diverse cose. però quella è forse la parte più interessante, dove il bimbo recepisce la materia. E per quanto riguarda questa mattinata appunto col fischio, mi sono sembrati insomma soddisfatti e contenti se ne sono andati via con un bel trenino anche. Sì, sono andati via con un bel trenino, hanno fatto tantissime pizze perché a un certo punto nella libertà i bambini fanno delle pizze, no, è andata bene, una buona mattinata. Va bene, grazie Monica, grazie Chiara e buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.